5 4 3 2 1 vai 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 alla fontana in destra 2 destra 2 30 al rail sinistra 4 per sinistra 3 sinistra 4 per sinistra 3 20 sinistra 4 100 al muro destra 4 fine rail al muro destra 4 fine rail 20 sinistra 4 50 sinistra 4 per sinistra 3 4 per sinistra 3 in destra 4 20 destra 4 in sinistra 3 5 per sinistra 4 per sinistra 4 2 tempi alla pianta in sinistra 3 20 destra 5 in sinistra 3 sinistra 3 50 sinistra 2 per destra 1 sinistra 2 per destra 1 20 al cartello tornante sinistro per destra 1 tornante sinistro per destra 1 alla pianta sinistra 1 per destra 2 per sinistra 1 per sinistra 1 per destra 1 per destra 1 e sinistra 3 per destra 4 20 20 sfiora sinistra per destra 5 lunga per arancio sul ponte in destra 2 arancio sul ponte destra 2 scende al cartello sinistra 3 lunga sinistra 3 lunga in destra 5 in destra 5 100 sinistra 5 sinistra 5 sinistra 5 e alla ringhiera sinistra 3 sinistra 3 frena per destra 4 50 50 in destra 5 20 sinistra 4 per tornante destro alla casa 50 tornante sinistro 50 tornante sinistro in destra 4 in destra 4 e 20 al masso in destra 4 per sinistra 3 due tempi per destra 3 50 sinistra 4 e al rosso sinistra 4 in destra 4 per accenno destro in sinistra 4 in sinistra 3 per accenno destro in sinistra 3 20 al muro in destra 4 alla ringhiera sinistra 4 che chiude 2 sinistra 4 che chiude 2 sinistra 4 che chiude 2 in destra 2 sei troppo avanti adesso sinistra 4 che chiude 2 in destra 2 per sinistra 3 per sinistra 3 due tempi destra 4 alle case in destra 2 per subito sinistra 1 al rosso destra 3 per destra 3 e alla fontana sinistra 2 100 10 sinistra 3 per destra 3 in sinistra 3 per tornante destro 20 accenno sinistro per destra 4 accenno sinistro per destra 4 a fine muro destra 3 intornate sinistro destra 3 intornante sinistro per accenno sinistro e alla ringhiera sinistra 3 e adesso a vista fino al cartello e subito sinistra 5 per sinistra 2 per destra 2 20 sinistra 2 per destra 3 per sinistra 4 che chiude 2 in destra 3 per tornante destro in sinistra 2 per destra 4 e al muro diventa destra 2 in sinistra 1 destra 2 in sinistra 1 per destra 2 per destra 2 50 sinistra 4 sinistra 4 e 20 destra 4 in sinistra 4 2 tempi per destra 2 per destra 4 e al muro tornante sinistro al muro bianco tornante sinistro 20 destra per sinistra 4 2 tempi per destra 3 in sinistra 3 per sinistra 3 per destra 3 50 finisce su sinistra 3 e 50 finisce su sinistra 3